Inizia la settimana e torna puntuale Viva Rai 2. Nella puntata di oggi, lunedì 4 marzo, Fiorello affronta la consueta rassegna stampa. Ma quello che doveva essere l'argomento clou, ossia l'intervista di Chiara Ferragni a che tempo che fa, è risultato un flop. Lei non ha detto un bel niente, nemmeno si è sbilanciata sulla rottura con Fedez, mettendo quindi in difficoltà lo Schman, come facciamo a commentare. Nuova puntata dunque di Viva Rai 2, Fiorello. Biggio e Casciari, insieme al resto del cast, hanno inaugurato la prima settimana completa di marzo all'insegna del buon umore, con tanta musica e l'immancabile commento ironico sulle notizie del giorno. Si parte dalla recente visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti e dall'incontro con il presidente americano Joe Biden, si sono visti, Biden le ha dato un bacio. Ma c'è stava a prova? Scherza Fiorello in dialetto romano. Alla fine dopo che si sono fatti la foto insieme lui l'ha salutata e ha chiesto ma quando arriva la premier italiana? Non finisce qui, perché il presidente del consiglio deve tornare di corsa in Abruzzo. Ci sono le elezioni, convincerà sicuramente gli abruzzesi. A votare Biden, ironizza ancora lo Schmen. Si è discusso tanto sui social di Chiara Ferragni, ospite ieri sera a che tempo che fa da Fabio Fazio. Ma per Fiorello, francamente non è successo nulla. Niente. E noi per far ridere cosa dobbiamo dire? Lei è arrivata, come va? Tutto bene, sì, un po' dispiaciuta, vabbè, avete capito male. Ma chi, noi, loro? Manco la crisi con Fedez ha confermato. Forse ci sentiremo. No. Lì ci siamo rimasti male. Come facciamo poi noi a commentare? Infine, la battuta sulle recenti vicende sportive e sui bei risultati dell'Italia ai mondiali indoor di atletica leggera di Glasgow, terminati ieri. Fiorello fa i complimenti a Furlani, Simonelli ed Osso, tre dei quattro medagliati azzurri ritratti in foto insieme su un quotidiano. Bravi ragazzi, siete fortissimi. Poi Vanacci quando ha visto questa foto ha detto l'allora ce l'avete proprio con me. Ospite musicale della puntata di oggi è Stash dei Colors che fa furore a Vivarai 2. Cantando Joliet, quando le parole di i pil me, tu pil te, di Joliet incontrano la voce di Chiocciola de Colorstache succede questo. I fan sono invisibili o per la sua esibizione sul profilo Instagram dello show commentano Cantata da Stash è una canzone bella, grande Stash è riuscito a renderla ancora più bella, più bella questa versione, d'improvviso innamorata perdutamente del brano di Joliet. E ancora, grandissimo Stash bella persona e bella voce, Stash è sempre bravissimo, che bomba. A questo punto, a Joliet non resta che chiedere a Fiorello un invito a Vivarai 2, per potersi riscattare e magari fare una sua versione di un ragazzo o una ragazza.